Ciao a tutti ragazze e ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Allora ragazzi, oggi vi vorrei far vedere i regali della mia comunione. Incominciamo. Allora, mi hanno regalato... Beh, ovviamente il telefono con cui sto registrando. Poi, questo braccialetto, molto carino. Poi, una mamma del tegando mi ha regalato, che la mamma lavora da casa, mi ha regalato questa candela. Il mango, che è la terra piccolina. E poi, questo portamonete, molto carino. Poi, un'altra mia amica, mio nome Chiara. Andatelo a seguire. C'è il suo canale. Si chiama Canaretto Coppola. Ecco qua. Questo braccialetto. C'è scritto a te che sei speciale. Non so se si vede. Però comunque c'è scritto. Voglio. Questa burpa. Questa burpa. Qui... E legge un inferto. Stragare. Che allora... Si apre così e si trova questo qui con i trucchi, ai occhi, poi si apre ancora, qui ci sono le luci dei labbra, c'è i rossetti, poi si apre ed esce questo, vedete? Così molto carino, è stra bello, è qui all'appoggio sotto, poi un ottimo solo che lo sto chiedendo, ecco qui, poi la chiesa mi ha regalato, per aver fatto la comunione, allora, secondo me di tutto ne ho dato visto, e poi questo righello a portacali, questo me lo ha regalato la chiesa, poi c'è questa, però me lo ha regalato la chiesa, questo braccio è molto carino, con queste perle verde acqua, adesso se non sono perle non so come definirle, poi mi hanno regalato questo diamante, con questo, che non ho ben capito a che serve però, cioè non ne chiamate quell'altro corpo argento, poi mi hanno regalato gli orecchini ad angioletto, e adesso leggiamo tutte le buste che mi hanno regalato. Allora, li metto qua e donaduna le leggiamo, nel giorno della tua prima comunione. Un caro augurio per questo giorno speciale, zio Ernesto, Laura e zio Maria Pina. Prima comunione. Oggi il Signore entra dentro di te, accoglielo con ospitalità e soprattutto fanne buon uso. Auguri, zio Daniele, zia Susi, Livi e Claudia. Oggi è il giorno della tua prima santa comunione. Oggi il Signore entrerà nel tuo cuore, custodiscilo per sempre. Auguri, con affetto franco e pieno. Che la gioia e la serenità ti accompagnino ogni giorno. Nonno, sappi che da oggi con il sacramento che assume Dio in te non vi è nulla, che Dio non possa compiere. Abbi fede sempre. Te lo auguriamo con tutto il cuore, nonno e nonno. Felice comunione. Per la tua prima comunione ricorda sempre che la fede è la compagna più importante della vita e per la vita. Fala crescere sempre insieme a te. Auguri per la comunione. Auguri da Laura, Renata e Gennaro. Alla splendida Francesca. La mia prima comunione. Che la serenità di questo giorno ti sostenga per tutta la vita. Auguri. Affettuosi auguri da Zio Giuseppe. Aguri per la prima comunione. Cara Francesca, Gesù entra oggi nel tuo cuore come una luce che illumina il cammino della tua vita e ti sia sempre vicino con il tuo aiuto divino e il suo amore. Affettuosi auguri per la tua prima comunione. Zia Luisa. Tanti auguri in questo giorno unico e speciale. Per te un pensiero sincero. Auguri Francesca che il Signore ti segue sempre. Ida, Gianni e Valerio. Per la tua prima comunione. Cara Francesca, conserva per sempre nel cuore la luce e la brezza di questo giorno speciale. Il sacramento che riceverai oggi possa aiutarti in ogni attimo della tua vita. Auguri che il tuo futuro sia sempre puro come in questo giorno. Dario, Sonia, Marivanna e Antonio. Prima comunione. Oggi il Signore entra dentro di te. Accoglilo con ospitalità e soprattutto fane buono. Su auguri perché possa portarsi, credo. Non lo so. Vabbè, nel tempo la benedizione, portarsi nel tempo le benedizioni di questo giorno. Bacioni da Zio Massimo, Zio Otiglia, Pietro e Jasmine. Auguri per la prima comunione. Oggi con la prima comunione Gesù entra nel tuo cuore. Accoglilo con gioia e amore. Ricevere la prima comunione è come nascere di nuovo con Gesù. Tanti auguri per questo giorno importante. Tanti auguri per la tua prima comunione. Ti auguriamo che il sacramento oggi ricevuto ti guidi e illumini ogni passo della tua vita. Cristina, Marianna, Alice e Claudio. Il nostro augurio è che questo sacramento ti aiuti nel cammino della tua vita. Famiglia di Dio. Alla piccola Francesca. I nostri auguri più sinceri ed affettuosi. È un giorno speciale. Lei è una delle... Sei una delle scuse più dolciose che conosco. Eddo, Patrizia, Giancarlo e viaggio. Felice comunione da Luigi e Lorenzo. Il ricordo di questo giorno importante accetta come dono il nostro augurio sincero. Aguri per la tua prima comunione. Con tantissimo affetto, Luigi e Lorenzo. E niente, sono finita. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così lasciate un like, quello che volete voi. Se volete vi potete iscrivere al mio canale. E se volete mi potete seguire sui musicali. Mi chiamo Kawi Franci. E vabbè ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!